Buongiorno a tutti. In questo video voglio parlare di un qualcosa che è successo in Germania e che riguarda i testimoni di Geova. Ricordate la campagna speciale di propaganda che ha visto impegnati i testimoni di Geova in questo mese? Ne abbiamo già parlato in un video. Una campagna di propaganda speciale, così denominata, ovviamente diversa dal solito, una campagna speciale che non si è potuta svolgere nel modo consueto come noi siamo abituati a vedere, siamo stati finora abituati a vedere dai testimoni di Geova, quindi porta a porta oppure per le strade fermando le persone. E' stata una campagna che si è svolta per lo più in modo inusuale, in questo senso, quindi una campagna che si è svolta prevalentemente a mezzo lettera, a mezzo messaggeria. Ora, mentre qui in Italia c'è più tolleranza da questo punto di vista, anche se ci sono anche qui delle leggi specifiche sulla privacy, in Germania i testimoni di Geova hanno avuto dei problemi in questo senso. A che cosa mi riferisco? Allora, io vi voglio leggere un articolo di una testata giornalistica, un articolo di una testata giornalistica tratta dal giornale tedesco online Merkur, tratta dal sito www.merkur.de. Un articolo, affirma Klaus Kuhn, il giornalista che ha scritto questo articolo. Allora, che cosa è successo in questi giorni in Germania? E' successo che la comunità amministrativa, quindi il municipio di Wartenberg, Wartenberg è una località tedesca, un comune tedesco, non molto grande, un comune di 4.600 abitanti all'incirca, quindi un comune abbastanza piccolo, che fa parte della regione della Baviera. Allora, cosa è successo? Che i consiglieri comunali di Wartenberg sono stati letteralmente, come si evince da questo articolo, subissati, inondati, di lettere da parte dei testimoni di Geova. Lettere che pubblicizzavano questa campagna mondiale. Qual era l'obiettivo di questa lettera? Sensibilizzare i politici, questo perché la società attore di guardia non fa politica, è neutrale. Sensibilizzare i politici locali, gli amministratori locali, alla tematica, partendo dalla gestione del Covid, per arrivare poi a pubblicizzare una soluzione definitiva ai problemi che affliggono l'umanità, ossia il Regno di Dio. Abbiamo già visto in un video precedente che il Regno di Dio che predicano i testimoni di Geova, che pubblicizzano i testimoni di Geova, non è quello di cui la Bibbia parla. E la cosiddetta buona notizia che i testimoni di Geova dicono di predicare non è il Vangelo della salvezza, non è lo stesso Vangelo che noi troviamo nelle scritture, ma è un qualcosa, è un'opera di propaganda pubblicitaria volta, in buona sostanza, a pubblicizzare l'organizzazione. E a reclutare personale nell'organizzazione. Ora però, questo non è stato preso bene, ovviamente, dal Comune, dai consiglieri comunali. Infatti, il sindaco Josef Strasser, sindaco, per esempio, di un paese sempre nel circondario, nel Comune di Wartenberg, definisce questo modo di agire, questo modus operandi dei testimoni di Geova, una vera e propria seccatura. E addirittura lui dice che anche in passato, in questo senso, i testimoni di Geova, locali, si sono resi protagonisti di un evento simile. Quindi, dice, non è la prima volta che accade. L'articolo continua dicendo che secondo le informazioni del nostro giornale non è stato scritto a tutti i membri del Consiglio Comunale, ma solamente ad alcuni membri selezionati, mirati. Quindi, anche se Dominic Rutz, che è un politico, un amministratore locale di Wartenberg, che fa parte del Partito dei Verdi, pensa che tutti a Wartenberg, dice qui l'articolo, abbiano ricevuto queste lettere. Un altro sindaco, sempre di un paese dello stesso circondario, si dice, un certo Anton Scherer, si dice particolarmente seccato anche lui da questo modus operandi, tra virgolette aggressivo, molesto, in un certo senso, perché l'articolo si intitola proprio I politici si sentono molestati dai testimoni di Geova. L'articolo continua dicendo che già in passato la comunità religiosa dei testimoni di Geova in Germania era stata segnalata per situazioni simili alla Corte di Giustizia europea, in modo particolare per la violazione della privacy, quindi per l'abuso dei dati personali dei destinatari delle loro lettere. Tant'è vero che già in passato, dice qui l'articolo, i testimoni di Geova sono stati rimproverati, richiamati all'ordine dalla Corte di Giustizia europea per questo motivo, per la raccolta di dati sensibili, non autorizzata. Ovviamente l'addetto all'ufficio stampa dei testimoni di Geova in Germania, presumo, tale Jochen Fessenbecker, perdonate la pronuncia, ma non essendo di madrelingua tedesca posso sbagliare, se c'è qualche tedesco all'ascolto o che conosce la lingua tedesca mi potrà perdonare in questo senso, dicevo, questo addetto all'ufficio stampa dei testimoni di Geova, si dice dispiaciuto del fatto che diversi politici locali si siano sentiti molestati. Lui dice che non era nelle intenzioni, non era intenzione della comunità dei testimoni di Geova a dare alcuna molestia, alcun fastidio, ma tant'è purtroppo, è quello che è successo. Lui si è giustificato dicendo che questa è stata un'azione come una tantum attraverso la quale l'organizzazione voleva semplicemente informare i funzionari locali, i politici e gli amministratori locali, ma stando a quello che sono le testimonianze proprio degli stessi amministratori locali, non si è trattato di una tantum. C'è una certa recidività dei testimoni di Geova, almeno in quella zona, in quell'area, nell'essere praticamente, diciamo, in un certo senso, nell'importunare il prossimo e in modo particolare i funzionari locali. Questo è quello che viene riportato nell'articolo. Ricordo, testata giornalistica online www.merkur.de, Desta per Deutschland, articolo a firma di Klaus Kuhn. Quindi, vedete, amici, i testimoni di Geova non sono... cioè, non è come l'organizzazione vuole far credere, che vengono perseguitati, vengono malvisti, perché sono l'unico popolo che predica, il popolo eletto, il popolo di Geova. No. Come si evince da questo articolo? Anche da questo articolo. I testimoni di Geova, purtroppo, in molte parti, in molti posti del mondo, in modo particolare qui in Europa, sono stati, la comunità, l'organizzazione, è stata richiamata all'ordine proprio dalle autorità locali, ma anche da diversi tribunali, in questo senso, proprio perché, per questa politica pubblicitaria, in un certo senso, massiccia, massiva, aggressiva, in un certo qual modo, che, soprattutto, e questo si evince dall'articolo, quando vengono, diciamo, quando si fa un abuso dei dati sensibili, della privacy, del prossimo, genera comunque dei fastidi, genera dei malumori, e questo può portare, anzi, porta sicuramente, a un effetto controproducente. Insomma, questa campagna doveva essere un fiore all'occhiello, forse l'ultimo grande colpo di coda dell'organizzazione, però non ha assortito gli effetti desiderati. Molte persone, la maggior parte delle persone, proprio grazie all'informazione sana, alla sana informazione che si sta facendo su questa organizzazione, sulla sua natura, sul suo operato, sulle sue dottrine, ci pensa non due, non cinque, non dieci, ma cento volte, mille volte, prima di dare credito e prima di continuare ad approfondire con gli appartenenti di questa confessione religiosa e tanto più prima di entrarvi a far parte. Purtroppo è così, insomma, ecco, io spero veramente che questo possa far riflettere anche alcuni testimoni di Geova che sono magari ancora formalmente tali, ma che nutrono dei dubbi sull'organizzazione, no? E ce ne sono, e ce ne sono, io vi assicuro che ce ne sono. In questo senso ho il polso della situazione. Ecco, io faccio appello anche a Costoro, ma perché? perché sottoporvi perché sottoporvi a queste umiliazioni per dar credito, obbedire ciecamente ai leader, i leaders, i capi di questo culto? Perché stare sull'attenti a ogni loro a ogni loro dire, a ogni loro parola? e perché sottoporvi a queste a queste umiliazioni, a questi fallimenti? Mi ricorda quando il corpo direttivo nel 2016-2017, a cavallo tra i due anni, sollecitò i testimoni di Geova di tutto il mondo a inviare lettere a Putin, al presidente Putin, per evitare che l'opera pubblica dei testimoni di Geova in Russia, nel territorio russo, venisse bandita, venisse messa fuori legge. Fu anche quello, fu un flop, fu un fallimento, fu un fallimento perché, purtroppo, e lo dico con dispiacere sincero, molte di quelle lettere furono cestinate. non so neanche quante arrivarono veramente al tavolo di Putin. E poi comunque, anche qualora qualcuna ci fosse arrivata, abbiamo visto che non hanno sortito alcun effetto. Quindi io, veramente, invito alla riflessione. io vi ricordo, come ho detto nell'ultimo video prima di questo, l'organizzazione Torre dei Guardia, in modo particolare, i suoi unti, la classe degli unti, come vengono definiti, si definiscono le cavallette, le locuste di Apocalisse, capitolo 9, guidate dall'angelo Abaddonno. Ecco, se non avete visto questo video di cui parlo e a cui faccio riferimento, vi invito a guardarlo. E ha un senso, e ha un nesso con l'articolo che vi ho commentato, questo articolo di questa testata giornalistica tedesca. Vi ringrazio per l'attenzione, e se Dio vuole vi auguro appuntamento per un prossimo video e un buon proseguimento di giornata.